ciao a tutti i ragazzi bentornati qui in un nuovo video di oggi allora oggi facciamo una reazione mi è stata chiesta un video praticamente me lo sono guardato e molto grazie a tutti grazie 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 ci sono moltissimi video così in giro sono veramente tantissimi gli esempi sicuramente avete un animale domestico e quindi dovete volerli bene come una famiglia tenerci a lui perché ovviamente lui ha un altro modo di esprimersi peraltro tutti questi cambi di luce non le sopporto dovrò fissare delle luci perché è insopportabile comunque ha un altro modo di esprimersi c'è un altro modo anche di farsi capire quindi stategli dietro volete gli bene e non lasciatelo solo non abbandonatelo fate vedere che ci sia comunque volevo condividere con voi questa esperienza vi ricordo commentare iscrivervi lasciare un like e condividere a a tutti ciao